Buone nuove per le cooperative coinvolte nei servizi erogati per l'ambito territoriale 6 per l'anno 2012, per le quali sono in arrivo tra pochi giorni i pagamenti delle relative fatture per le prestazioni effettuate. Questa prima tranche di pagamento arriva dopo un lungo processo di verifica di atti, procedure, di modalità di funzionamento dell'ambito dopo il licenziamento, per giusta causa, della coordinatrice Sonia Battistini. Un lavoro complesso e difficile di grande responsabilità, dato che si parla di politiche sociali al quale è stato chiamato il coordinatore protempore Maurizio Mandolini. Vogliamo comunicare che essere riusciti a fare una ricostruzione per l'Onker Premio 2012, che ha consentito di portare in consiglio questa delibera, che come debito fuori di bilancio particolare, perché comunque i fondi sono IMS, non sono del comune di Fano, ma di poter garantire quindi a chi ha reso tutte le prestazioni il giusto ricompenso, ecco questo per noi è un segno di grande soddisfazione. Sono tre cooperative su cui verrà ripartito in modo diverso rispetto alle prestazioni rese, che sono la cooperativa Crescere, la Cosmark e la Labirinto, è questione di giorni. Una parte fondamentale in questo processo di trasparenza è stata svolta dai comuni facenti parte dell'ambito 6. Tutti quanti ci siamo rimboccati le maniche, dandoci due obiettivi fondamentali, che erano quelli della continuità dei servizi e naturalmente il fatto di poter pagare le cooperative che avevano effettivamente reso questi servizi. Poi ci sono state tutte le vicende che hanno riguardato, nello specifico ovviamente la figura del coordinatore d'ambito, ed oggi possiamo assolutamente registrare un dato estremamente positivo, che è quello di aver scelto una nuova figura di coordinatore d'ambito per traghettare questa difficile fase che ha due sfaccettature, che sono da un lato quella di andare a risanare quella che era la situazione presistente, naturalmente, sia dal punto di vista contabile sia dal punto di vista organizzativo. E l'altra mission che io ritengo ancora più importante, perché poi determinerà il futuro dell'ambito, è quella di costruire un nuovo ambito all'interno del quale i comuni effettivamente immettano una maggior quantità di servizi e quindi carichino l'ambito stesso di riferimento di anche contenuti maggiori. Ora, dopo questo punto di svolta, si rende necessaria una nuova fase per l'ambito territoriale, una fase di ricostruzione. Adesso stiamo ripensando insieme come rilanciare l'ambito, come trovare forme associate anche di gestione dei servizi con tutti i comuni e come ripartire con una fiducia nuova e diversa, cercando di individuare anche uno staff. Adesso abbiamo il coordinatore d'ambito ad Interim, poi ripartire il bando e quindi il dialogo e la caratterizzazione che il Comitato dei Sindaci deve avere, che è di tipo politico, finalmente sta prendendo una forma nuova e più concreta.